50 milioni di euro per consentire alle scuole di garantire le gite scolastiche a più studenti possibile. È quanto stanzierà il Ministero dell'Istruzione, su indicazione del Ministro Giuseppe Valditara, per sostenere e incoraggiare la ripresa dei viaggi d'istruzione e per far fronte al problema dei rincari generalizzati. È la prima volta che delle risorse vengono stanziate per questo scopo. I fondi serviranno soprattutto a permettere ai ragazzi provenienti da famiglie e meno abbienti di partecipare alle gite. La difesa del diritto allo studio è una priorità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha dichiarato il Ministro Valditara, e presuppone la partecipazione di ogni giovane, senza che sia di pregiudizio la propria condizione sociale, a tutte le esperienze formative offerte dalla scuola. Tra queste rientrano a pieno titolo i viaggi d'istruzione, le visite didattiche, importanti occasioni di apprendimento e di crescita umana e civica. Sarà lo stesso Ministero a individuare le scuole a cui destinare le risorse. A Pavia nei giorni scorsi aveva fatto discutere la decisione dell'Istituto Cossa di sospendere le gite scolastiche per non discriminare nessuno studente per motivi economici. Era stata la dirigente scolastica Cristina Comini a proporre lo stop alle gite, proposta poi approvata anche dal Consiglio d'Istituto. Se il Cossa dovesse venire scelto tra le scuole che beneficeranno dei fondi, la situazione potrebbe cambiare già dall'anno prossimo. I 50 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Istruzione saranno a disposizione infatti in tempo utile per effettuare la pianificazione dei viaggi e delle uscite didattiche per l'anno scolastico 2023-2024.